allora ci siamo siamo pronti partiamo con il primo episodio di questo podcast che si chiama fronze arena e signore e signori abbiamo anche il pubblico perché abbiamo due persone in regia c'è il nostro thomas marzioni poi abbiamo riccardo che sta compiendo il suo tirocinio curricolare qua da noi nella benedetto 14 ma bando alle ciance vorrei un applauso del nostro pubblico perché come primo ospite abbiamo giulio in arte subconscio ciao a tutti è un gran piacere davvero abbiamo fatto due chiacchiere con i ragazzi in macchina venendo qui da un bolo quindi siamo già trovati subito devo dire ci stiamo scaldando ci siamo scaldati che è la cosa più bella no prima di iniziare a registrare quello che è un racconto una chiacchiera esatto una chiacchiera dobbiamo raccontare delle cose importanti qui dalla visual brand room che come vedete oggi è la sua inaugurazione ideale e ringraziamo il nostro sponsor che per l'appunto ci ha messo a disposizione quello che è realizzare un piccolo sogno nel cassetto che tutto lo staff aveva di quello di poter avere un luogo adibito a quello che è la registrazione di un podcast che andrà sicuramente molto bene metteremo in crisi tutti gli altri quindi primo podcast in italia dopo dopo una settimana l'abbiamo già annunciato quindi tremate che seguiamo da tempo in realtà youtube credo che sia una piattaforma super quindi la vogliamo assolutamente cavalcare perché abbiamo tante idee tante belle cose e soprattutto tanti belli ospiti da editare uno sei te allora come vedete qui abbiamo giulio faccio la prima introduzione tu dovrai subire anche questa cosa vai vai ci sono sono pronto un cielo aperto perché ci siamo voluti aprire nel senso che noi siamo una squadra di basket siamo la comunicazione siamo una parte ognuno nei suoi ruoli di questa squadra che gioca in serie a due e vedi c'è il cielo perché siamo aperti qua dentro non succedono cose brutte vedi il cielo è bello qualche nuvola ci vuole per decorare ma è bianca e non porta pioggia quindi siamo perfetti no allora niente e si comincia questa stagione finalmente anche musicale del nostro half time show sei il primo ospite è incredibile tra l'altro non l'avrei mai detto sinceramente soprattutto per la promozione del mio disco che è in uscita il primo dicembre però quando è arrivata diciamo la proposta mi ha incuriosito tantissimo sono diciamo seguo di più il calcio però comunque questo è un difetto che hanno tutti gli italiani esatto esatto però comunque negli ultimi anni mi sono appassionato anche al basket quindi mi fa mega piacere tra il secondo e il terzo o quarto giusto? esatto perché c'è un ci sono 15 minuti perfetto 15 minuti a disposizione in cui posso fare di tutto allora tu avrai circa 5-6 minuti proprio dopo le squadre entrano in campo per scaldarsi in questi 15 minuti o comunque definiamoli 6 minuti no l'idea che è nata l'anno scorso è proprio di dire scusami allora una città come 100 30 37 38 mila abitanti ha la possibilità di avere un palcoscenico come la serie A ma perché lasciare un momento dove non c'è nulla? infatti è un'idea perfetta anche per supportare la musica emergente italiana no? perché poi magari ci si lamenta che non c'è musica che non ci sono artisti emergenti vediamo sempre i soliti invece così è bello perché dai la possibilità anche ad un artista emergente come appunto nel mio caso di potersi esibire davanti a un pubblico vastissimo non so quante migliaia di persone diciamo almeno mille persone perché sono 900 rotti gli abbonati più poi tra l'altro tu verrai in una partita perché diciamo dai qual è la partita? perché io non la conosco non me l'hanno ancora detto contro Nardò perché io in questo momento dovrei dire domenica giochiamo contro Nardò in realtà sono una persona sincera e stiamo registrando prima quindi noi domenica giocheremo contro Udine e tu verrai la domenica dopo perché il presupposto di questo podcast è che non dobbiamo assolutamente fingere cose che non sono vere ci stai, giusto, giusto ecco, bene, perfetto e no, giocheremo contro Nardò, Nardò tra l'altro è una squadra della Puglia vicino a Lecce peraltro è anche bestia nera della Benedetto 14 perché difficilmente siamo riusciti a vincere che io abbia memoria l'anno scorso come è andata contro Nardò? abbiamo perso sempre si è andata che ritorno si è andata che ritorno ho anche un motivo per è per questo che abbiamo buttato dentro un pugliese e dici magari ecco, ecco, dai, vedi, vedi poi io dalla provincia di Foggia quindi figura di Collecce non è che ci sia è derby è derby è derby, attenzione i miei amici di Nardò sappiate che durante l'intervallo con questa mi sono bruciato sicuramente il pubblico di Nardò, facile proprio ma sì, ma noi non abbiamo rivalità tu pensa che peraltro quest'anno la cosa che stiamo facendo è durante, un'ora prima della partita invitiamo nella nostra Wine Selection Hospitality la dirigenza e alcuni ospiti delle squadre avversarie per regalargli in segno di Fair Play quello che è un regalo del nostro main sponsor che è una bottiglia di vino per brindare al Fair Play quindi, già ti dico, qua è ambiente pulito, tranquillo esatto, è quello che ci vuole nello sport tutti gli sport in generale dovrebbe essere così poi devo dire che nel basket si sente di più si percepisce di più questo sentimento questo senso di comunione anche tra le varie società ora sicuramente esistono le rivalità come nel calcio però non lo so perché il basket mi dà un senso di più sportività è più sportivo più sportivo e la musica è sportiva l'ambiente musicale? cavolo che domanda che mi hai fatto è un ambiente particolare ci sono tante situazioni complesse però allo stesso tempo si conoscono anche tanti quando c'è appunto avviene un contatto con altri artisti è sempre anche molto bello scoprire cioè la musica ti mette in connessione e ti fa scoprire anche tante persone fantastiche grazie alla musica ho conosciuto tantissime persone che oggi sono miei amici quindi anche questa cosa che crea connessione può solo che fare del bene poi è chiaro come tutti gli ambienti ci sono gli attriti ci sono le chicchie e i chiacchiericci insomma ce n'è per ogni diciamocelo però è migliorata un po' la situazione forse sì è migliorata rispetto a qualche anno fa dove cioè allora migliorata da un certo punto di vista perché oggi si tende molto a guardare i numeri cioè se hai i numeri sei un figo se non hai i numeri sono sfigato se hai dei numeri sei bello e la cosa funziona se non hai i numeri non è così e questo svaluta un po' l'arte secondo me in generale perché non funziona così cioè molto spesso avere dei numeri oggi magari si parte dal fatto che magari uno attraverso i social magari ha tanti follower quindi può arrivare a più persone ci sono tante dinamiche un po' particolari ecco che secondo me dovremmo anche un attimo rivedere perché non fa bene all'arte in generale no valutare tutto attraverso solo i numeri ecco bisogna anche un po' ascoltare la musica ascoltare il prodotto ascoltare anche quello che ha l'artista da dire poi che possa piacere o meno quello che è un altro discorso credo che questo sia un tema che purtroppo nasce da molto prima poi magari arriva quando uno ha un'età in cui comincia un percorso quindi nel tuo caso tu quanti anni hai Giulio? devo fare 31 esatto 31 perfetto bene dopo quando uno cresce inizia a fare delle valutazioni inizia a capire e a dare importanza alle cose serie e vere però per dire riportando quelle che sono le parole di Gallimberti che è una persona che seguo spesso ne parla tantissimo di questo tema sui ragazzi giovani nel senso che c'è questo problema già dalle scuole medie per poi passare alle superiori dove c'è questa valutazione no di chi è più e chi è meno che purtroppo gira attorno al numero di follower ed è un tema però come dicevi tu giustamente dopo poi in base alla forza che ognuno ha e racconti l'educazione che ha arriva a capire che l'importante è ben altro cioè per dire facendo un esempio pratico oggi un artista magari ha un'apparizione un momento che lo mette in luce a livello televisivo guadagna cinquantamila follower in cinque minuti ma questo non vuol dire che rispetto a un altro e quindi sono pienamente d'accordo su questo e ti dico non sarà nostra valutazione quella di chiamare artisti in base ai numeri e quindi questo è anche perché comunque se io sono il primo ospite appunto vuol dire che non si guarda affatto a questo aspetto ecco perché comunque ho raccolto magari i miei numerini importanti con l'ultimo disco è stata una grande soddisfazione però è chiaro che i numeri grossi sono anche altri quindi sono d'accordo però arriva un momento in cui secondo me nella propria strada se uno segue il suo percorso quando dovesse mai arrivare l'occasione di avere i numeri è lui quindi non ha bisogno di interpretare sono completamente d'accordo infatti ne parlavamo anche prima fuori onda c'è un talent che noi l'anno scorso abbiamo seguito particolarmente nella scelta degli ospiti devo dire che insomma come tutti gli anni accade alcuni hanno una continuità cioè una continuità altri meno perché magari non hanno ancora ben chiaro qual è il loro il percorso adatto da seguire la strada perché comunque quando si è così giovane 18, 19, 20 anni non si è ancora bene la percezione di quello che si vuole fare del tipo di sound che un artista vuole seguire ci vuole un po' di tempo ecco per arrivare a questo quindi capisco insomma da questo punto di vista poi c'è chi invece magari è già maturo a 19 anni e quindi sa già le idee chiare sa quello che vuole fare e lì già è un altro modo per esempio di presentarsi a un talent perché hai già le idee molto chiare in testo ma facendo un focus su di te su subconscio sull'artista adesso uso la parola focus perché è anche uno dei nostri format dove andiamo ad adentrarci più su quello che è il personaggio adesso è uscito il primo episodio guardatelo su youtube del nostro capitano che per l'appunto si chiama Cup il primo episodio dove ci addentriamo a capire meglio il personaggio del giocatore come la vive il tuo focus in questo momento esce il disco l'abbiamo detto a dicembre esce il disco quali sono le aspettative che ti sei voluto dare se te le sei volute dare allora avevo più aspettative nel disco precedente il mio secondo disco in questo è un po' che è il terzo intanto è stato il disco che ho realizzato in minor tempo rispetto agli altri quindi è stato proprio una roba di getto cioè in questi mesi mi sono chiusi in studio insieme al mio producer e abbiamo tirato fuori questi pezzi non lo so da un certo punto di vista mi sento più tranquillo anche perché ho trovato una bellissima realtà che sono i ragazzi di Fan Club Records sono la mia nuova etichetta di Milano Ground Keeper Studio che è il mio management che mi segue mi tutelano di più mi coccolano di più quindi da un certo punto di vista mi sento più tranquillo e anche l'idea di non dover più magari pensare a determinati aspetti che è quello di sentire chiunque per delle ospitate sentire chiunque per fare dei live capire il tipo di cachet capire se c'è il pernottamento che sono tutti degli aspetti che prima gestivo da solo che mi mandavano completamente in pap e quando era invece il momento di salire sul palco avevo mille pressioni addosso che non mi permettevano di performare al meglio mentre mi sento più tranquillo posso dire perché diciamo un team dietro che lavora per me e mi fa stare più sereno e mi fa pensare soprattutto di più alla musica con questo disco in uscita spero di fare tanti live tanti concerti in giro per l'Italia speriamo anche fuori dall'Italia perché comunque credo che quella sia la mia dimensione principale infatti sui soci al lavoro però anche fino a un certo punto chi segue il mio progetto e chi chi mi conosce sa che per me è fondamentale creare un contatto reale sul palco con il pubblico quindi spero innanzitutto di fare tantissime date ecco non voglio mai più scendere dal palco questo vuol dire che hai scelto il lavoro giusto perché evidentemente sì sì amo quello che faccio spero di poter insomma anche un giorno vivere di questo è comunque molto difficile vivere di musica oggi in Italia in generale che è un tema che è un tema sicuramente però devo dire che è difficile emergere in questo momento in Italia rispetto a prima forse ma guarda te la riduco si emerge spesso per un qualcosa che non c'entra assolutamente nulla con la musica esatto è vero è vero in realtà parlavamo con i ragazzi in macchina però in Italia funzionano si può dire le cazzate e il trash poi magari bippiamolo non lo so raga però sì il trash in Italia funziona da dio poi magari se fai anche musica no ti può aiutare esatto ti può aiutare ma noi per quanto riguarda l'emergere secondo te per quanto riguarda scusa l'emergere in realtà youtube il fatto di potessi autoprodurre molto di più adesso rispetto a prima questo sicuramente da troppo saturato il mercato oppure secondo te è una mano è una cosa positiva perché comunque se pensiamo un po' di anni fa era molto più difficile e complesso fare musica quindi da un lato è anche bello il fatto che un ragazzo molto giovane possa tranquillamente dalla sua cameretta emergere sbocciare se pensiamo anche ci sono tanti casi in questo momento in Italia da Supreme su tutti è un ragazzetto cioè comunque giovanissimo un artista incredibile che si produceva produceva i beat lui scriveva e poi è riuscito comunque a ottenere dei risultati incredibili quindi fa bene è chiaro che aumenta aumenta il fatto che ci sono tantissimi artisti oggi tantissimi ragazzi che oggi vogliono fare questo e si crea diciamo una bolla nel mercato sembra troppo facile forse si può sembrare troppo facile questa cosa quindi alcuni la prendono un po' sotto gamba un po' tutti vogliono vogliono fare ok voglio fare l'artista anche io scrivo pezzi anche io voglio fare musica e magari si perdono degli step fondamentali che appunto quello di beh però diciamo che insomma come tutte le cose sono i periodi in cui una cosa è più attraente esatto di base io quello che dico oramai da tempo è bene che sia una moda bene che sia attrattivo quantomeno prendere una penna e scrivere perché comunque esatto se non lo fa l'intelligenza artificiale esatto quindi insomma teniamo conto di questo aspetto che è una cosa con cui mi trovo a combattere spesso con chi magari ha 50 55 anni che non apprezza questa nuova dimensione dei ventenni e quindi insomma eh teniamo conto di questo che ci sono molti che tirano fuori o una tastiera del computer o comunque carta e penna e già questo è sicuramente meglio di qualche anno fa assolutamente anzi anzi con altre situazioni perché c'è stato il periodo della moda del DJ tutti suonavano tutti suonavano adesso invece il DJ valli a trovare nel senso che è un ragazzo di 18 anni che suoni molto difficile insomma ci sono periodi quindi scrivere però secondo me è una cosa bella una cosa bella poi d'un altro caso che diventi o no un lavoro che è una comunque rimane esatto fa comunque bene è una passione dal modo io ho iniziato a scrivere soprattutto per sfogo mio personale quindi non c'era l'intento di voler scrivere delle canzoni si poi comunque tu hai 31 anni quindi insomma appartieni a ci ho messo un po' prima di arrivare a confezionare diciamo un po' però ti dico io parlo anche ragazzi di 18 20 anni 16 è chiaro che l'elemento dello sfogo c'è perché comunque non è che stiamo vivendo un periodo idilliaco dove essere 16 anni sia super super bello quindi comunque più c'è l'altra componente che è quella che chiaramente uno scrive scrive in base a quello che pensano a 16 anni 17 18 19 20 non bisogna criticare secondo me perché comunque tutti abbiamo avuto quell'età lì e tutti sappiamo i pensieri che avevamo in testa semplicemente oggi possono diventare un po' più mainstream e essere più in scena attraverso i social attraverso tutti i mezzi di comunicazione che ci sono oggi sono tantissimi quindi ed è lì che sta la responsabilità esatto di chi ha il potere magari di fare comunicazione come noi in questo caso abbiamo con il seguito forte che c'è di una squadra che gioca in serie A di trasmettere dei bei messaggi che è quello che stiamo facendo quest'anno e io credo credo che nei tuoi testi comunque nelle tue sonorità nel tuo credere quale sia un vero percorso artistico ci siano tutte queste credenziali che noi abbiamo visto in te e quindi grande mi fa piacere davvero ci tengo molto poi a questa cosa mettere in luce mettere in luce no no seriamente dobbiamo mettere in luce in questo live che ci puoi già spoilerare cosa canterai devo ancora un po' luttare perché sono sette minuti giusto sette minuti sei sette minuti quindi devo tirare fuori il meglio un mesciappone esatto un mesciappone oppure sarebbe la prima volta oppure la cosa diciamo più sensata sarebbe quella di suonare i pezzi che ora esce un brano la settimana prossima uno è uscito due settimane fa quindi sarebbe l'ideale sarebbe fare i due singoli in uscita però non è detto giocherà giocherà la carta del ruffiano sul conscio o la carta della provoca vediamo adesso ci devo un attimo pensare magari faccio un po' un po' per accontentare basta le carota esatto come si dice in gergo vediamo comunque racchiudere tutto in sei minuti non è facile tra l'altro è la prima volta che mi capita una situazione del genere quindi anche ritrovarsi davanti a un pubblico che non è lì per ascoltare te ma è lì per la partita quindi già questo comunque cambia tutto e riuscire anche a convincerli a strappare l'applausi magari anche non sarà semplice eccovi allora su questo io dico sempre è giusto non snaturare il proprio diciamo percorso artistico certo però bisogna pensare bisogna sapere ascoltare sì è come il dj no un dj che suona solo per se stesso e suona solo la musica che piace a lui che ascolterebbe in camera sua sì bello perché lo vedi che si diverte quindi magari da un certo punto di vista a livello di comunicazione percepisci che comunque è una persona che sta suonando si sta divertendo però il dj bravo è quello che anche alza gli occhi verso il pubblico vede se si stanno divertendo le persone se stanno ballando e da lì gestisce la sua poi scaletta stai parlando di una lotta che ho fatto per più di 10 anni no ma immagino perché mi hai raccontato prima facevi il vocalist disc giochi cioè lo dice disc giochi la definizione è quella cioè tu devi devi mettere i dischi per gli altri esatto perché se no sei un artista certo quindi un artista fa un lavoro diverso e magari insomma ti affermi poi anche il dj a modo suo comunque è giusto che faccia ricerca e quindi magari sia lui a far conoscere perché prima la figura del dj era quella di comprava i dischi perché prima non essendoci tutti i mezzi che ci sono oggi per ascoltare la musica magari scoprivano quel disco che metteva in serata e le persone impazzivano quindi questo concetto no pagavano per sapere il titolo esatto per sapere il titolo è una cosa impensabile oggi se ci pensi con uno oggi in due secondi abituati a tirare fuori il telefono tra youtube spotify e tutti gli altri itunes eccetera in due secondi possiamo arrivare a tutto ma prima cioè devi sbattere davvero andare a ricercare i dischi magari non cioè per esempio mio padre da giovane faceva il dj l'ho saputo e noi da un piccolo paesino della Puglia mio padre veniva a Bologna per fare dei laboretti magari trovava dei dischi che arrivavano solo qui e quando tornava giù li suonava le persone impazzivano impazzivano completamente quella è una cosa super strappittosa oggi puoi farla in un modo diverso in senso che puoi adattare il tuo dj set su magari una base e uno standard diciamo di quello che è poi ogni tanto nel set cacciare anche qualcosa che può arrivare di più al pubblico può far cantare il pubblico anche quel riff iniziale che dice ho riconosciuto il pezzo è quello quindi gli fa impazzire è anche un po' quello il ruolo del dj quindi io la bravura di chi mette dischi la valuto anche in base a questo i dj che suonano sempre con la testa bassa senza guardare la sala senza guardare il pubblico e la sua reazione apprezzo per il tipo di viaggio no? perché magari il dj si sta divertendo sta suonando la musica che ama però ci deve avvenire uno scambio tra il pubblico e chi mette dischi quindi abbiamo capito che tu cercherai uno scambio assolutamente sono molto curioso di questa cosa qua assolutamente quindi non fate le persone brutte che non vogliono scoprire questa cosa perché la curiosità è una cosa che fa molto 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 bene tranne a Ulisse che ai tempi fu troppo curioso però a questo non sono racconti sei curioso esatto no ma adesso andiamo un po' fuori tema per poi dopo andare verso la conclusione nel senso che siamo addirittura d'arrivo e domanda che non c'entra niente vai sono pronto televisione cosa ne pensi guardi più le piattaforme più televisione guardo poco generalista è un tema di questi giorni guardo poco rispetto a prima magari mi fermavo di più ora preferisco stare più tempo in studio però quando sto quando mi capita di guardare qualcosa allora mi piace molto propaganda live su la set è uno dei pochi programmi che quando arriva tipo il venerdì sera a me il venerdì non piace uscire in realtà a me piace stare in casa torno dallo studio mi preparo la mia cena e metto propaganda live quello è l'unico momento effettivo oppure comunque anche su Rai 2 Cattelan devo dire ogni tanto ci sono delle interviste interessanti più tv o piattaforme in generale tv si forse più più tv sai piattaforme meno stancato dopo il covid sarà dopo il covid che abbiamo guardato qualsiasi cosa poco poco youtube si si guardo pochissimi videoclip pochi videoclip la musica che ascolto l'ascolto principalmente da la spotify oppure direttamente anche dalla ricerca che faccio su bandcamp ci sono vari siti dove poter ascoltare altre piattaforme rispetto a quelle più mainstream dove poter trovare anche degli artisti che non trovi magari su spotify bene adesso ti mettiamo alla prova devi fare uno spot di 30 secondi per invitare tutte le persone che hanno seguito questo podcast a vedere la partita contro il Nardò contro il Nardò che non è questa domenica però chi li starà guardando sarà questa domenica ti mandiamo in confusione contro il Nardò il 5 novembre quindi il 5 novembre devi convincerti con un collegamento ti do un compito da fare tanto tu scrivi noi quest'anno come slogan abbiamo scelto DNA Benedetto perché vogliamo promuovere quello che è il DNA di questa cittadina qui che nonostante tutto che sia piccola che sia scollegata dal mondo che c'è la nebbia a voi non interessa voi andate dritto però succede sempre qualcosa tra alti e bassi a cento comunque c'è sempre un piccolo colpo di scena che può andare in atto quindi DNA Benedetto e su DNA determinati non è rendevoli abbiamo detto con questo presupposto qua facci lo spot guarda la camera e vai 5 novembre Benedetto contro Nardò il DNA è molto importante conservare il DNA non mancate per la partita vi aspetto per un live un mini live di 6 minuti non mancate e ci vediamo il 5 novembre applauso applauso è molto ha creato atmosfera ha creato atmosfera ha creato atmosfera si poteva fare di più però tipo al potevo fare un po' il baffo ho mancato 5 novembre mi è piaciuto 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 che sono più chill io sono chill in generale è stato un momento molto catartico come ai tempi non so conservare il DNA è importantissimo descriviti un po' al pubblico che intende anche musicalmente allora come posso descrivermi è difficile non mi piace diciamo rientrare in una categoria perché la musica per me è libertà assoluta però comunque diciamo sono un grande appassionato di black music dal funk soul l'r&b fino ad arrivare anche a generi più elettronici perché comunque mi piace tantissimo contaminare e unire il tutto con la musica elettronica quindi spero di poter arrivare di potervi far ascoltare la mia musica e di poter farvi anche ballare insomma perché è giusto anche far muovere il pubblico a un certo punto allora io propongo una cosa facciamo una playlist spotify targata sul corso magari cavolo assolutamente oggi la preparo subito si fa così entriamo nel mood per arrivare a domenica poi a me piace mettere musica faccio anche il dj spesso quindi mi piace ricercare mi piace ho tanti amici che mi fanno anche da digger addirittura il digger è quello che va che non suona però ha una grande passione che è quella di ricercare musica che gli altri non conoscono quindi avere anche delle amicizie che ti danno una mano da questo punto di vista fa bene quindi fa tutto bene fa tutto bene e ti faccio l'ultima domanda perché sono molto curioso di questa cosa in realtà ne abbiamo parlato un po' fuori prima fuori onda Bologna Bologna sulla mappa come la vedi? Bologna spacca Bologna è una città incredibile cambiato qualcosa negli ultimi anni tutto a livello musicale artistico è tornato sì c'è una gran scena molto forte ci sono tantissimi progetti tantissimi amici hanno dei progetti fighissimi poi svelaci dopo chi è il capo di Bologna a livello artistico tanto facciamolo il capo secondo te il capo di Bologna è difficile perché comunque Bologna è sempre molto aperta da questo punto di vista anche tra artisti si creano una bella una bella chimica grazie anche a diversi locali che da un po' di anni danno la possibilità agli artisti di salire sul palco attraverso le jam session di conoscersi scambiare un po' di un po' di parere riguardo quello che è anche la situazione attuale del panorama musicale ma poi si possono creare anche bellissime collaborazioni per esempio nel mio nel disco che uscirà il primo dicembre c'è un brano con Vincenzo De Stradis che è il cantante di Westfalia sì sì ne abbiamo parlato prima e ti invitiamo grande sì sì adesso parlo con Vincenzo così siete invitati quindi se poi dopo non accettate l'invito è abbastanza scortese assolutamente sono sicuro che si prenderanno benissimo quindi la musica fa anche questo a Bologna vedi ha creato delle connessioni importanti lo sto facendo molto bene ci sono dei progetti come ho detto molto fighi emergenti tanti da ascoltare magari poi nella playlist linkerò qualcosa quindi lì potrete ascoltare un po' di questi progetti dai dai non vedo l'ora e non vedo l'ora ho tante altre cose da dire ma sì Bologna è una gran scena in questo momento secondo me anche in Italia è una scena da tenere da non perdere di vista è importante vedere ci saranno diversi ovviamente si sta creando un po' un sound bolognese un po' più caratterizzante io ho trovato un po' l'obbligo allora sì 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 esatto rispetto a qualche anno fa si sta creando anche una scena appunto a riguardo un po' il genere che faccio io il soul perché oltre al suono c'è qualche cos'altro però vai finisci dopo vediamo se ci prendo e quindi c'è una grande contaminazione poi vabbè Bologna è anche famosissima per il cantautorato no il cantautorato emiliano romagnolo abbiamo in questo momento rappresentanti pazzeschi come Samuele Bersani Cremonini tutti incredibili a Bologna si respira un'area di libertà artistica che secondo me anche un po' le altre città ci invidiano posso dire la mia vai è che quello che dicevi tu prima locali questo questa c'è semplicemente la possibilità di esercitare il proprio talento più spesso sì cosa porta porta una convinzione sul palco che ad oggi quello che dicevi tu prima è fondamentale ad oggi è venuto a mancare questo aspetto qui perché uno potendo fare musica in casa non si confronta con quello che è il pubblico con quello che è il live invece quello che dicevi tu su Bologna questo ravvivare questa possibilità di fare esperienza assolutamente porta una convinzione che è determinante l'anno scorso l'abbiamo visto anche con adesso parlo sempre di X Factor quindi insomma X Factor insomma sto lavorando per voi esatto sono pronto quando volete no però per dire c'erano molti artisti della scena bolognese sì esatto Cinzia Zaccaroni poi c'erano i disco da paradiso tanti nell'audition e non è un caso non è semplicemente un caso quindi il live secondo me porta a questo tipo di risultato fondamentale ma è un po' come in tutte le cose se pensiamo in questo momento ne stiamo parlando la squadra si sta allenando di là per affrontare una partita che arriva domenica importante è uguale alla figura dell'artista cioè durante la settimana durante determinati non arrendevoli bisogna allenarsi bisogna stare sul pezzo in modo tale da poter performare al meglio poi quando si sale sul palco o sul campo da gioco quindi è la stessa cosa quindi da questo punto di vista Bologna si vive una bella si respira una bella aria bene noi abbiamo parlato di visual branding in apertura e lo voglio fare anche in chiusura ringraziandoli nuovamente loro si occupano di comunicazione comunque più specificatamente di quello che è il lato del branding del logo del marchio con la realizzazione di insegne come potete vedere qua è molto bene molto bella quanto è importante oltre la comunicazione stretta di quello di comunicare il branding il fatto di crearsi per si vendere anche ma proprio anche a livello proprio estetico perché loro curano l'estetica e con quello che sono poi accessori che vanno a comporre inevitabilmente quello che è l'attorno al logo per valorizzarlo in questo caso qua io insomma ho visto qualche tua grafica e qualche tuo video soprattutto su Spotify che sono in movimento non statici c'è un lavoro dietro un concetto qualcosa mi piace molto lavorare da questo punto di vista perché vabbè io facevo prima facevo il grafico quindi ci tengo davvero tanto anche all'estetica vabbè il progetto subconscio anche in realtà ogni disco è un concept album diciamo c'è sempre un'idea dietro e provo a creare un collegamento tra quello che vorrei vorrei dire nei miei brani e anche invece la parte estetica anche se ho fatto il grafico nella mia vita ho sempre evitato di curare diciamo le mie copertine mi sono sempre affidato dei professionisti esatto ci tengo davvero tanto per esempio in questo quest'ultimo disco che uscirà è una cosa completamente diversa ho voluto lavorare più diciamo insieme a dei fotografi quindi immortalare attraverso degli scatti più real esatto più real mentre prima erano più grafiche un concept più sta tornando mi fa ben sperare il concetto del real si si è vero è stato un periodo che sui social se non avevi una grafica era devastante tu non stavi lavorando esatto invece oggi serve arrivi di più eh madonna certo se ti mostri più per quello che sei infatti anche l'approccio sui social madonna si può dire madonna oggi si può dire sia lo tanto sì no nel senso anche l'approccio sui social no se ci se ci pensiamo prima le baccheche le home di instagram scusate erano tutte belle impacchettate c'erano addirittura il mosaico con le varie foto che si incastravano andavano a formare un'unica slide invece oggi più sei immediato più sei real con il video mega sgranato schifosissimo con l'audio che gratta tutto più arrivi alle persone ed è anche e questa è una cosa positiva sì sì no sono assolutamente convinto di questo che ci sia un ritorno su questo punto di vista qua e bene quindi affidarsi a visual brand esatto la qualità prima di tutto esatto no bene affidarsi perché soprattutto le aziende che hanno bisogno di ristrutturare quello che è la loro immagine come avete ben sentito è importante stava guardando poi quello che è un lavoro quotidiano di farsi conoscere quindi questo è il mio consiglio di massimo perché non sono le grafiche che aiutano ma è la valorizzazione il concetto esatto il concetto quello che c'è dietro poi effettivamente un progetto e visual brand ve lo può dare detto questo siamo pronti abbiamo fatto un altro spot per visual brand incredibile insomma tutto questo lavoro tra l'altro vorrei chiudere in questo senso qui abbiamo due pareti qua bianche perché insomma dobbiamo ancora finire il tutto sì e poi faremo insomma scriveteci nei commenti cosa vorreste mettere cosa non vorreste mettere poi dopo anche con sul conscio ci ragioniamo che è un ricordo tuo dopo l'edizione noi ti daremo ovviamente un regalo grande fa piacere io li ho dimenticati guarda lo dico perché sono sincero dovevo portare il disco c'è anche il vinile no il vinile no non me l'hanno stampato no ma c'è tempo c'è tempo speriamo di fare il vinile un giorno quando ci sarà più budget magari io adoro però è il cd dai 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 caro buon vecchio cd che ormai uno non sa più neanche come ascoltarlo perché non esistono neanche più nelle macchine nuovi dispositivi però c'è un QR code gigante dove poter scaricare no no però bene e lo porterò sicuramente il 4 il 5 saremo insieme due giorni ci pensiamo noi ci pensiamo noi bene quindi dopo ci divertiremo perché insomma ci faremo conoscere 100 verrai un giorno prima grande e andremo dai passi di Flemming al nostro sponsor non vedo l'ora non vedo l'ora alloggerai da Monteborre quindi insomma anche questo sarà per noi per me è un bellissima esperienza no dai mi fa piacere contento di farti vedere 100 bene quindi vi ringraziamo per averci seguito grazie ragazzi davvero vi aspetto il 5 domenica 5 giusto novembre sì per la partita farò un mini live e grazie a tutti davvero è stato un piacere e invece volevo un po' maledire tutto il mio staff che con tutti i ragazzi belli grandi ragazzi ragazze belle che ci sono che avete mi avete rimesso a me davanti alla telecamera comunque no dai sto scherzando ciao a tutti alla prossima ciao 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 ciao